Da oggi entrano in vigore le nuove regole per le etichette di latte derivati che dovranno riportare obbligatoriamente l'origine e dunque la provenienza del prodotto a tutela del Made in Italy. Francesco Rossi. Da oggi i consumatori potranno sapere non solo se i prodotti caseari che mangiano sono stati confezionati in Italia, ma persino sapere il luogo di mungitura del latte. Un successo straordinario per il Made in Italy che va sempre più tutelato dalle speculazioni internazionali, ma anche dai furbetti che rischiano di pregiudicare il lavoro di migliaia di addetti di uno dei settori trainanti della nostra economia. Entra infatti in vigore oggi l'obbligo di indicare, sull'etichetta di tutte le confezioni di latte e prodotti lattiero caseari, il nome del paese in cui è stato munto il latte e quello in cui è stato condizionato o trasformato. Finora gli alimenti che riportano l'indicazione di origine obbligatoria nel nostro paese sono l'olio extravergine di oliva, la carne bovina, di pollo e derivati, frutta e verdura fresche, uova, miele, pesce e passata di pomodoro. Dunque da oggi cambia il regime per la produzione di formaggi, latticini, burrata, ricotta, yogurt e tutta la vasta gamma di prodotti lattiero caseari. Il provvedimento viene applicato al latte vaccino, ovi caprino, bufalino e di altra origine animale. Con l'etichettatura di origine, ha affermato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo, si dice finalmente basta l'inganno del falso made in Italy con tre cartoni di latte a lunga conservazione su quattro venduti in Italia che sono stranieri. Così come la metà delle mozzarella sono fatte con latte o addirittura cagliate proveniente dall'estero, senza per questo che sia stato obbligatorio fino ad ora riportarlo in etichetta. Le diciture utilizzate saranno le seguenti, paese di mungitura, con il nome del paese nel quale è stato munto il latte, e paese di condizionamento o trasformazione, ossia il nome del paese in cui il prodotto è stato confezionato o trasformato. Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari sia stato munto, confezionato e trasformato nello stesso paese, l'indicazione di origine può essere assolta con l'utilizzo di una sola dicitura, ad esempio origine del latte Italia. Se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più paesi diversi dall'Italia, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture. Latti di paesi UE, se la mungitura avviene in uno o più paesi europei, latte condizionato trasformato in paesi UE, se queste fasi avvengono in uno o più paesi europei. Se le operazioni avvengono al di fuori dell'Unione Europea, verrà usata la dicitura paesi non UE. Sono esclusi solo i prodotti DOP e IGP che hanno già disciplinari relativi anche all'origine e il latte fresco già tracciato.